Lorenzo Di Bartolomei Rizzitelli, appunto l'allenatore Bigon, l'arbitro Luci di Firenze, un Inter che deve recuperare e c'è il gol di... La partita vera è durata 20 minuti, giusto il tempo per l'Inter decisa a risalire la classifica e di segnare due gol ad un Cesena tranquillo e disinvolto. Rivediamo il gol segnato da Passarella su angolo battuto da Fanna.